11 donne di nazionalità cinese sono state denunciate e multate a Jesolo. Si proponevano come massaggiatrici abusive. A eseguire l'operazione nel fine settimana la polizia locale che ha perlustrato la spiaggia. Le massaggiatrici hanno ricevuto sanzioni per un totale di 1.204 euro. Una delle donne è stata anche denunciata per resistenza a pubblico ufficiale per aver graffiato uno degli agenti. Nel blitz sono stati fermati altri quattro soggetti per commercio abusivo sequestrando la loro merce per oltre 500 pezzi di varia natura. Nella stessa giornata è stato identificato anche un gruppo di musicisti rumeni che facevano accattonaggio e sono stati sanzionati per mestiere girovago senza autorizzazione. Gli strumenti musicali sono stati sequestrati.